storia del faciolo magico. C'era una volta un bambino di nome Giacomino che viveva con la mamma Caterina in una fattoria. I due possedevano solo una mucca che ahimè un giorno smise di fare il latte. Erano tanto poveri e per cercare di guadagnare qualche soldino la mamma disse a Giacomino di portare la mucca al mercato e venderla. Giacomino ubbidì. Strada facendo incontrò un omino e gli disse che bella mucca dalla me e in cambio prendi questi cinque fagioli magici. Giacomino non fece in tempo a rispondere che si ritrovò in mano cinque fagioli e la mucca non c'era più così e tornò a casa senza soldi e con solo cinque fagioli magici. Caterina tutta arrabbiata lo mandò a letto senza scena buttando fuori i fagioli dalla finestra. Il giorno dopo Giacomino si svegliò e vide dalla finestra una luce verde. Si affacciò e notò una pianta di fagioli alta alta. Incuriosito decide di arrampicarsi. Giunto in cima si trovò dinanzi a un castello bussò alla porta e trovò un'enorme donna di nome Elisa che gli aprì dicendo scappa via di qui mio marito all'orco Gianni e se ti scopri che tu sei salito fin quassù cercherà di prenderti. Oh per favore sia gentile ho tanta fame e vorrei qualcosa da mangiare implorò spaventato Giacomino. L'orchessa ebbe pietà di lui lo fece accomodare in cuscina e gli diede un po' di pane e formaggio. Mentre Giacomino mangiava tutto quello che Elisa gli aveva dato si udirono dei passi che si avvicinavano e una voce tonante che diceva ucci ucci sento odor di cristianucci che sia grande e pur piccino io mi faccio un bel panino. Poveri noi mio marito Gianni è tornato gridò Elisa e fece nascondere Giacomino nel forno. Intanto l'orco Gianni si sedette a tavola e cominciò a contare tutte le monete d'oro che erano dentro alcuni sacchetti e mentre contava 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 si addormentò. Giacomino anche se pieno di paura uscì dal forno prese uno di quei sacchetti colmi di monete e scappò via. Tornato a casa raccontò a malla mamma Caterina tutta la storia e i due festeggiavano perché non sarebbero mai stati più poveri. Purtroppo però poco tempo dopo i soldi finirono e così Giacomino si fece coraggio e decide di arrampicarsi nuovamente sulla pianta del fagiolo. Arrivato in cima vide subito Gianni e si nascose dietro a un cespuglio per spiarlo. Così vide l'orco Gianni che comandava ad una gallina. Deponi le tue uova piccola cara e la gallina depose un uovo che pensate un po' era tutto d'oro. Preso l'uovo dorato l'orco si stese sul prato e si addormentò. Giacomino non poteva farsi sfuggire questa occasione. Così sgusciò fuori dal nascondiglio prese tra le mani la meravigliosa gallina e tornò a casa dalla sua mamma che quando vide questa bellissima gallina che faceva le uvo ad oro esclamò non saremo mai più poveri. Ma non passò troppo tempo che il nostro curioso amico decise di arrampicarsi ancora sulla magica pianta. Arrivato al castello l'orco entrò e senza farsi sentire e vedere da Elisa andò in cucina e si nascose dietro una grande pentola. L'orco Gianni arrivò annusando l'aria e urlò. Ucci ucci sento odore di cristianucci. ma Elisa lo rassicurò come sempre e gli servì il suo pranzo. L'orco poi ordinò gran voce moglie portami l'arpa. Lei corse a prenderla e l'appoggiò sulla tavola. Arpa suona comandò Gianni e l'arpa iniziò a suonare dolcemente fino a quando il suo padrone non si attormentò. A questo punto Giacomino tremante dalla paura saltò sul tavolo e si impadronì dell'arpa e scappò via. Ma indovinate un po'? L'arpa iniziò a gridare ad alta voce. Padrone, padrone, mi portano via! E Gianni si svegliò. Giacomino iniziò a correre. Correva, 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 più veloce del vento. Si aggrappò al tronco della grande pianta di fagioli e arrivò a terra per primo. Ma l'orco, arrabbiato, correva veloce anche lui. E stava arrivando quando Giacomino urlò alla mamma. Mamma, mamma, passami, lascia! E non appena l'ebbe in mano, Giacomino iniziò a colpire con forza il tronco della pianta. E dopo alcuni colpi ben precisi, riuscì a spezzarla. Con un grande boato crollarono al suolo la pianta e Gianni, formando una buca talmente profonda, ma così tanto profonda, che nessuno sarebbe stato più capace di salirla e di tornare indietro. La magica pianta di fagioli non crepe mai più. E del resto, ormai, tanto Giacomino e la sua mamma non ne avevano più bisogno, perché l'arpa suonava meravigliosamente e la ganillina continuava a fare le uova d'oro. Così non furono più poveri e vissero per sempre felici e contenti. Ciao bambini! Oggi volevo scoprire insieme a voi che cosa può nascere da un semplice fagiolo. Allora, per iniziare ci serve dei fagioli, un po' di cotone, un contenitore, io ho preso un bicchierino, e uno spruzzino con dell'acqua dentro. Iniziamo? Allora, è semplice. Prendiamo il nostro bicchierino e adagiamo sul fondo il cotone. Spruzziamo con un po' di acqua. Mettiamo dentro due o tre fagioli, un po' distanti tra loro, ben adagati sul cotone, e poi spruzziamo ancora. Adesso non ci resta altro che aspettare. Posizioniamo il nostro contenitore con i fagioli all'esterno e aspettiamo che la magia della natura abbia effetto e dai fagioli nascerà una bellissima piantina. Ciao bambini! Un bacio!